benvenuti in un podcast di voci in cui sentirete noi raccontare storie che ancora non conoscevamo in cui ci appassioneremo alla vicenda di personaggi che esisteranno solo per il breve tempo nel nostro gioco in mondi affascinanti ed immaginari un podcast di appassionati curiosi e sognatori un podcast in cui esploreremo il gioco di ruolo giocando semplicemente a quello che ci piace io sono antonio benvenuti su gente di ruolo prima cosa pay off reputazioni e denaro ottenete due reputazioni di default più uno per ogni tire di differenza visto che le maschere adesso sono di tire 1 le state prendendo in un momento debole avete 3 di reputazione e andiamo quindi a 6 in totale il turf l'abbiamo preso allora perché questo ci praticamente lo segniamo come permanente esatto e quindi diciamo adesso ne servono 11 per passare nel totale ne avete 6 ve ne mancano 5 dopo di che coin avete fatto un buon un buon tesoro effettivamente questa era una piccola cassetta di sicurezza del delle maschere che tenevano nel caso di necessità urgenti durante il colpo oppure questa parte segreta del laboratorio usata anche come casa sicura nel senso che magari qualcuno si imboscava lì e bisognava pagargli poi l'uscita indenne corrompendo qualcuno delle giacche blu quindi fate conto di avere un tesoro buono quindi sei coin ebbe lei questa era una burglary dunque abbiamo anche il avete anche il più due esattamente del e dunque abbiamo otto coin ho capito bene esattamente molti di più di quelli che potevate immaginare nella nostra nella nostra credo che la cassetta che abbiamo appena rubato diventa la cassetta che abbiamo sul tavolo e ci stanno quattro coin e dunque ne metto dentro uno di quelli che abbiamo ancora 7 da spenda così volanti dobbiamo spenderli oppure metterli una tasca a testa magari se ci avanza dobbiamo spenderlo oppure metterlo nella nostra ok quello lo vedete dopo facciamo il giro delle lezioni esattamente dopo di che aspetta bisogna fare i conti dell'eat allora due sarebbe contenuto esposizione standard 4 è rumoroso e caotico 6 sarebbe selvaggio devastante no che è il secondo colpo lo avete fatto in maniera abbastanza contenuta molto contenuta diciamo il primo invece no quindi sono in tutto cinque it perché comunque un altro di per l'intrusione delle maschere e tutto quanto comunque ve lo strascicate dietro oltretutto vediamo più uno perché se l'avete fatto in territorio ostile quindi siamo a 6 aia eh no e per adesso non siete ancora in guerra nel senso che la guerra inizia nel momento in cui è finita il colpo se no sarebbe un altro più uno eh ma abbiamo finito già una abbiamo già riempito ok e adesso dobbiamo abbassarla avreste avreste avuto un altro più due se aveste ucciso qualcuno se la barra è piena vuol dire che è piena e eh rolla a zero e metti un wanted level comunque siamo siamo ricercati per questa sparata che abbiamo fatto eh diciamo che eh siamo al limite no tutta no no l'avete sul passato nel senso che riempire la barra vuol dire averla riempita è come quando fate il passaggio di livello non aspettate l'XP dopo la barra piena resetti a zero e fai il passaggio questo vuol dire che sostanzialmente il fatto che voi abbiate reclamato il territorio e tutto quanto eh vi mette nella lista delle persone da tenere d'occhio adesso mentre prima vi sguinzagliavano dietro semplicemente eh gli ultimi gli ultimi delle reclute adesso vi considerano no ci sta ci toccherà parlare di più con la rozza ma penso penso che gli arriveranno un sacco di soldi adesso e possiamo togliere il wanted con i soldi o no? ehm no il wanted level lo puoi abbassare tramite con la prigionia esattamente tramite? con la prigionia ah vabbè cioè adesso vogliono qualcuno per quel crimine esattamente vogliono la testa di qualcuno e quindi eh prima o poi se volete abbassarlo considerate che farsi becchiare vuol dire stare dentro un mese o due mh ma tanto vogliono la testa di un scovlaviano ma è problema ok detto questo ma di un certo Bill Ironborn e dunque non possiamo neanche spendere i soldi per abbassare la hit perché è wanted adesso punto basta esatto avete avete scavallato beh possiamo spendere per altre cose certo per fare azioni downtime e altre cose entanglements perfetto quindi adesso il vostro hit è 0 dunque tirate 1 di 6 perché adesso tirate il vostro wanted level prima era 0 adesso è 1 tirate 1 di 6 tiro io vai vai quando faccio number of dice su roll fortune lo lascio a 0 no? per tirarne uno solo no no metti 1 metti 1 ok ok è un 2 fate l'abbonamento all'1 e al 2 va bene adesso no? guarda non lo so cioè tiro ma solo a blaze in the dark sono dei tiri squaldi di veramente aspetta è bene tirare basso adesso o no? no in realtà no sono un po' misti ok direi che facciamo una cosa abbastanza meccanica e veloce non ci perdiamo in troppe cose perché siamo in guerra e quindi è questo gang trouble praticamente uno della gang oppure della coorte crea problemi a causa dei suoi vizi o del temperamento potete perdere faccia e quindi togliere una reputazione uguale al vostro tire più 1 oppure fare una farne un esempio ok fare un esempio che cosa intende? il che vuol dire che ad esempio se qualcuno della vostra della vostra gang fa casini perché fa casini in un bar poi lo portate lì a leccare il pavimento e dite non succederà più e questo è uno stronzo siamo i tipi da fare queste cose? attualmente no perché siamo noi tre sì di solito questo non lo eh non c'è non c'abbiamo il parafulmine? non avete il parafulmine quindi potete comunque farlo sulla reputazione nel senso che probabilmente qualcuno crea casini e posso dirti anche in realtà secondo me è molto facile perché è già successo alla fin fine Timur crea malumori nei suoi contatti scovlaniani e la cosa non passa inosservata perdete uno di reputazione per questo si sta sei un ragazzaccio niente che bello fare fare le cose con le cose già successe è proprio la versione più pigra del GM che si possa immaginare e a questo punto abbiamo chiuso la parte che riguarda me e avete un downtime activity a testa signori dobbiamo pigliare anche un'abilità di classe ma pensiamoci sì non so se dobbiamo farlo adesso visto che non facciamo colpi e cose del genere ma potete farlo tranquillamente dopo tanto non penso che l'abilità di di banda possa servirvi esattamente proprio nel downtime no giusto per ricordarci certo sì sì dopo ci pensiamo ok avete un'azione di base più quelle che voi volete pagare confermami non possiamo abbassare l'it no ok quindi abbiamo sette danari da distribuirci due a testa e uno volante sarebbe sì io ti dico le ti dico le mie azioni Anto allora perché c'erano già due in testa poi la terza vediamo allora io faccio una cura due dadi perché c'è l'amica di tizio e la mia abilità da fisico ok sei ok con sei fai tre tick sul clock esatto e puoi spendere un coin per portare da tre a cinque i tick e quindi chiudere il giro sì lo spendo perfetto per chiunque ci ascolti sì è vero non ho mai fatto valere sul dottore la sua condizione negativa sono un gem è buono però almeno gli ho fatto spendere un sacco di azioni di downtime esatto e ho ancora un'azione perché ne ho usate due più cioè ho usato quella dei denari per capirci con un'azione faccio partire un clock che è di investigation e si chiama trovare la sedia delle maschere ok perché comunque quegli appunti trovare la tana delle maschere quegli appunti del tizio là potrebbero essere un aiuto capirci cioè un aiuto certo un inizio per lo meno almeno per trovare altre locazioni delle maschere e direi che quant'è 12 no non sono così così grossi è un 8 ok tiro no investigation sì è un tiro puoi tirare mi sa che tu aggiungi anche qualcosa perché sono considera che se parti da lì potresti fare già potresti fare uno study ad esempio se parti da da quei documenti da quel libretto lì vedi tu cosa vuoi tirare non è che è una cosa no ma tiro uno study no no ma io tiro domanda io in downtime vi posso aiutare? no puoi fare le azioni tu in downtime sullo stesso obiettivo ok ok sei sei ok quindi mettiamo tre tick sulla sulle maschere con questa azione hai speso il tuo ultimo denaro vero? no ne abbiamo sì il mio ultimo denaro sì ne abbiamo ancora uno generale ok se vuoi spendere quello della tavola al posto di segnare tre tick ne segni cinque cosa ne pensate ragazzi? ma sì beh se riempiamo il clock il prossimo colpo sappiamo qual è eh sì io quindi lo spenderei allora io ne ho fatti tre ho due tick di analyst e ne possiamo mettere due per il dinè se qualcuno vuole ancora tirare su questo abbiamo tre slot liberi sì io lo ma guardate ma possiamo spendere scusate i soldi della nostra cassa certo ma voi potete spettarli tutti quindi allora intanto ne ho speso facciamo conti che allora ne spendete uno io metto cinque tick giusto? ok e una cinque ok perfetto Garrotto utilizza la sua azione normale quella che vi rimane per sparire un po' a White Crown a sfogarsi e spero che non faccia un overindulge è sempre dietro l'angolo ho comunque cinque di stress per fare un overindulge devo proprio fare un sei dunque mi deve andare bene dunque mi deve andare male e so già che cosa vuol dire se faccio l'overindulge va a fare duelli anche lei ok ok vediamo vado un po' a vedere questi scontri di scherma con il mio grande amico ammiraglio e i vlog bonus dice non ne ho no e via ti pareva boom sei ma è incredibile sta cosa ok diciamolo Roll20 vi vuole contro in questa campagna beh aveva tanto stress da sfogare ma non così tante allora puoi esagerare che opzioni ho adesso due volte che aspetta che guardo l'overindulge allora allora overindulge posso scegliere un altro entanglement posso prendere due di hit esaltandomi posso sparire per diverse settimane cosa che mi spingerebbe a giocare un altro personaggio o potrei mandare a quel paese potrei mandare a monte il mio fornitore no dai l'hai appena conosciuto no adesso basta beh dai c'è da zero hit tutto sommato puoi anche prendertelo e poi toglierlo sai che cosa prendo il due hit e quello che succede è che effettivamente Garroth magari dice qualcosa di troppo all'ammiraglio sai dietro dietro ai ventagli dietro alle maschere sui bordi di questi eventi cose del genere insomma il cuore va più rapido e così di entrambi allora gli dice qualcosa che è forse sai quella cosa che tu ti giocavi il personaggio della come dire della dama atipica quella un po' fuori dagli schemi eccetera e a un certo punto loro hanno il dubbio se ci fai o ci sei e cominciano per un attimo ad avere il dubbio che tu effettivamente ci sia che tu non stia semplicemente giocando alla dura è anche giusto perché lei non è brava a nascondersi in questo senso sociale dunque ok e dunque due hit alla gang mi dispiace ragazzi va bene va bene ma io non li toglierei nemmeno ma soprattutto per notare che abbiamo presi otto perché qualcuno si è andato a sparare in mezzo alla piazza urlando no dai non è solo colpa sua però quasi non importa e poi tra l'altro è colpa dei dadi esatto il piano era perfetto il piano era molto bello effettivamente i dadi cioè puoi fare almeno a tirare cazzo Luca no ma il secondo il secondo colpo ci è andato molto bene e ti credo io non ho tirato un dado motivo per cui il tenente andava in giro con le mani dietro la schiena il tenente ha aiutato quando doveva hai altre cose da fare in downtime sì allora voglio spendere una delle monete della mia stash personale un coin ne spendo e voglio abbassare la hit di quella che ho appena generato dimmi tu come vuoi farlo ad esempio potresti fare un consort per nella serata stessa come dire fugare questi dubbi con un paio di oppure anche con uno sway dicendo ma no ma cosa dite ammiraglio e far in verità ti dico una cosa l'ammiraglio mi va bene che senta questa cosa però c'era anche un inserviente che ha sentito questa cosa e che adesso sta andando in cucina per spifferare tutto allo staff ok ovviamente questi eventi hanno grande attendenza e si mangia si beve dunque certo e Garotte si è accorta di questa cosa che mentre lei si esaltava di cose che non doveva esaltare cose del genere e magari intriga pure l'ammiraglio Avlock c'è questo cameriere o che cos'è poi che sente e fa una faccia molto furba interessata e se ne va e lei lo segue lo segue e lo vorrei fare col prowl praticamente perché lo voglio prendere di sorpresa gli metto sotto sai in un angolo buio gli metto sotto sotto il collo lo stiletto però dopo gli infilo il conio gli dico stai zitto ok quelle cose da boom esatto vai boom aspetta rischi oppure no non mi interessa tu tiri e in base al tuo tiro riduci hit quanto al tiro ok sai quindi sei riduci tre di hit ok perfetto va di nuovo a zero benissimo non dirai una parola e da questo momento quando mi vedrà si cagherà addosso ok tolgo un gettone e poi dopo voglio spendere l'ultimo l'ultimo cognome che ho quello personale per fondamentalmente mentre il goal studia le locazioni e i movimenti che fanno magari sai gli ordini di maschere cose del genere i costumi i vestiti i giri in giro che fanno lui studia io vado sul posto e vado a vedere vado nel market e vado a vedere effettivamente dove sono questi posti e magari li guardo un attimo e l'idea di tirare su survey ok benissimo per riempire il clock posso farlo certo e poi magari ogni tanto sai per giustificare il coin speso faccio infilare dei soldi nelle mani a qualcuno sai come un vettorino o qualcosa del genere sì sì oppure a posti le vedette prezzolate e poi fa il giro per vedere cosa hanno visto hai presente pasturi varie zone e poi ti metti effettivamente solo in quelle che val la pena hai ragione hai ragione sai che cosa posso utilizzare visto che la mia amica Tilda è una donna di strada camminatrice di strada la chiamano vabbè comunque posso dare posso dare lei un po' di cogno per farmi aiutare in questa operazione ok di sorveglianza quindi tira anche un dado in più perché usi un tuo contatto ok aspetta allora tira un dado in più bello survey controllato effetto standard bonus dice 1 bello tirare di mezzo i contatti ok 5 5 sono 2 tic e la cosa buona e molto interessante che ti viene fuori da questo è che a tutti gli effetti Tilda ti dice che ha un po' domandato in giro comunque sentito voci da un po' di tempo a sta parte che effettivamente se stai cercando le maschere nel night market le cerchi nel posto sbagliato perché probabilmente il covo delle maschere è a Silkshore beh beh allora proprio così sprovveduti non sono e mi tengo a memoria questa cosa e la farò poi sapere agli altri se riempiamo il clock di altri due dove arriva il clock? ne basta uno al che avete avete la locazione con le dritte che ti ha dato Tilda e quello che il dottore ha studiato dagli appunti effettivamente probabilmente in quegli appunti c'erano delle consegne o cose del genere adesso che sai rileggere queste informazioni legandole al Silkshore riuscite a riturre molto bene la zona una volta che riempite il clock avrete praticamente l'edificio io ho ancora due tic liberi non tirate più su investigation perché tanto lo troviamo ok sai che cos'è bello che abbiamo messo insieme abbiamo trovato le informazioni adesso tu da analista le metti insieme ok direttamente anzi io questo lo riempio faccio conto che spendi uno dei tuoi tic e te ne resta un altro bonus ok va bene dottore dottore va vai dr goal vabbè fatta niente io ho finito i miei i miei downtime comunque Garrotti in questo periodo in maniera molto spocchiosa continua a darvi del vuoi a tutti ok ti ha preso gusto sì sì ma lo fa apposta ok perché effettivamente abbiamo fatto una figuraccia con il primo colpo però io ho finito allora tenente per prima cosa voglio vorrei aprire un clock anch'io e lo vorrei chiamare amici amici degli sciacalli ok voglio cominciare a farmeli amici cominciare magari a trattare in qualche informazione qualche indicazione per fare questo quel colpo dove smerciare la roba oppure far passare la loro roba attraverso di noi renderceli amici insomma perfetto lo metto come un clock da 6 perché alla fine passare da 0 a 1 non richiede tantissimo sforzo e non è neanche una posizione così esposta da parte vostra insomma cominci a oliare un po' le ruote esatto e pertanto tirerei su consort banalmente posizione non nulla effetto uguale bonus dice nessuno tiro 5 beh dai insomma finalmente un tiro sopra il sopra il 2 sopra il 2 ok segno quindi due tick e questa è fatta ok e come li segno no no li segno io sul tavolo perché queste sono cose che riguardano la banda e quindi io li segno sul tavolo tutte le robe della banda ok le maschere reagiscono è ancora uno perché avevi scelto un'altra conseguenza ok il prigioniero la giacca blu nell'interrato era la conseguenza bella perché per come avete deciso di risolverla voi altri ci è tornata in tasca sta cosa comunque infatti le complicazioni non sono necessariamente il caos assoluto però vanno gestite poi spenderei un coin per indulgere nel mio vizio ovvero andare a servire all'orfanotrofico come sempre ma il coin è rappresentato dal fatto che io vado da Riven e compro e tramite lei prendo dei farmaci o qualcosa che può essere utile ai bambini e esatto e faccio una donazione all'orfanotrofico oltre ad andare lì a lavorare che brava persona tira pure esatto e tiro che devo tirare con qualche bonus no? no 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 non conta il più uno qui ok allora tiro secco oh e vado anch'io fuori no ma dai mi senti che non sa regolarsi ragazzi aspetta aspetta bruci l'orfanotrofico no no ancora peggio tipo vabbè no dimmi tu cosa cosa scegli? vediamo vediamo perché non me lo ricordo allora perdi il contatto con il con la possibilità di induggere nel vizio e crei casino quindi prendi più due a hit prendi un'altra conseguenza quindi tiriamo nuovamente sugli entanglements oppure perdi reputazione no aspetta cos'era no allora attirare problemi se seleziona o tira un entanglement in più rovini qualcosa fai cacciare prendi due hit perduto il personaggio lo svanisce per qualche settimana e è buttato fuori il gli dà il vizio ti manda via scelgo perduto ok va bene il discorso è che prendi queste medicinali e a un certo punto ti prendi così bene sul fatto che debbano essere distribuiti usati con accuratezza e cose del genere perché anche magari qualcosa che in sovradosaggio crea problemi più di quelli che non risolva eccetera tale per cui comincia a spendere tempo e tempo e tempo dici si aspetta oggi devo tornare là anche domani beh dai domani finisco e praticamente stai via un po' si un po' un bel po' un po' di settimane si e vi dirò in più un'altra cosa che l'ultimo coin che mi rimarrebbe finisce nella mia stash personale ok perfetto alla fine questa matrice di maschera l'avevamo presa no? l'avevamo presa con noi l'avevamo raffata a goal mentre io raffavo i soldi e credo che sta sul nostro tavolo addosso alla addosso alla cassa con dentro il cogno che ci rimane oppure l'ha messa via il goal dove sa lui nello stipetto dai mille comparti abbiamo finito i downtime a meno che non vogliate farne ancora quei coin che avete dobbiamo ancora 4 coin in teoria e nel frattempo vediamo di capire cosa succede con il personaggio di Luca e con cosa e con chi giocherà a Luca la prossima giocata lo scopriremo solo vivendo e quindi se ne riparla la prossima settimana esattamente no ancora tra un po' hai tempo perché la prossima non ci sono io va bene c'è un po' di tempo adesso di downtime nostro dei giocatori ok allora io metto un tick ah già ah si tu hai un altro tick è vero non hai ancora finito è una pistola pineale ah esatto porti avanti la tua pistola i tuoi studi i tuoi progetti che è un tuo clock personale esatto bene salutiamo tutti e chiudiamo la registrazione sedite si colpo è andato bene abbastanza una piccola cosa non avete mai usato la resistenza no è che non c'era alla fine si stavo meditando di usare la mia di resistenza ok che c'avevo pure l'armatura per resistere alle detezioni alle scoperte o ai sistemi di sicurezza ma trappole non le abbiamo fatte scattare il campanello quello durante l'assalto alla fine non è subentrato ok dunque ho evitato di usare la mia di resistenza no ma dico durante la prima parte del colpo quella che è data totalmente a quel paese ricordatevi che eventualmente comunque Timor tu potevi resistere alle conseguenze dei tiri andati male è una cosa che ho completamente dimenticato ok io o potevamo noi resistere per te prendendoci le conseguenze nessun problema comunque è andata bene cioè nel senso ha fatto fiction lo stesso la prossima volta ricordatevi che comunque anche sui tiri sbagliati voi potete minimizzare o totalmente annullare le conseguenze pagandole in stress però comunque potete ammortizzare il colpo questa volta abbiamo giocato senza e se ne è venuti fuori lo stesso ricordiamolo per la prossima volta nel caso vi voleste servire sapete che c'è l'opzione salutiamo chi ci ha ascoltato in questo ennesimo delirio della nostra campagna che comunque prende corpo e avanza piacevolmente nelle vie del crimine con azioni sempre più improbabili e strane e grazie per averci ascoltato e buona serata saluti da me che sono Antonio e da tutti gli altri buonanotte buonanotte sarete sempre benvenuti se questo progetto vi piace fatemelo sapere o fatelo semplicemente conoscere in giro ma soprattutto fatevi un favore non smettete mai di giocare